perci, perci no devi accederare ma accendere un poco dai a parte, dai a parte te parti dai te parti dai si dai ma buona il Yamaha è a parte è aperto eh te ma molto più cattivo che vuoi mi sto mandando ora tanto più cattivo stai a prendere così subito metti in spalla metti davanti al culo ma che hai filmato quello proprio entusiti dai a parte in via siamo in fascia oraria protetta siamo in fascia oraria protetta non si fa questo male? no non 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 pensi di compagni carogni puttana la portinaia oh questo è un filmato oh questo è un filmato che merita se si vede è un filmato che merita ora c'è paura che mi rendosso ma hai visto il 360 gradi oh ma è morto qua mi rendosso guarda se levi in fuori non ti rendo io se non l'hai filmato non sono buttato in rio per evitare la moto aspetta no fermo aspetta aspetta gioca tu in rio perchè l'altra marcia non era mia no 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 non è che cosa si fa? no fermo no fermo ma come me fermo no 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 fermo no no non è bomba niente non è bomba niente si deve fare fermo uccidere da parte di lì dai 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 non è mai dai dai la sua moto usare la sua moto una sola volta ho visto la quella degli occhi che esceva allì questa volta canta Gai dai che amera io dico questa brava allora questa è brava allora va fanno ovulata per area ti ho filmato ma ma ıyor a più non so se è buio for 1 ora mi è andato a 2 così i raggi un bel uomo 2 cari spera se è buio for per te scrivere è davvero difficile ben tu non tutti non so non lo so uno lo so pavano tu non so prima prima le trugie paraboi che hai capito che hai e questa lui invece ha fatto diretta se vola moto in aria 300 santa gradi in aria spera perché se mi fanno mi fa paura mi sono buttato per terra mi indosso mi hai fatto il tiro per voi che hai venuto per qui io sono un piñano per sogno prima parte sotto viene su hai visto come sono arrivati ora? sono montati sulla luce? 5-3 minuti e non posso mi sto aguantando per farlo il tempo io faccio una chidigua se viene fuori il capotone lì monta su lato venga non c'è nico io non ho fatto una roba in fondo e pierdo rifarla non c'è nico io che ci guardiamo non c'è nico io e te lo hai fatto brutta figura magari? non c'è nico questa è la prossima io ho cavasato qui non c'è nico il mio che io faccio il gatto che voglio se mi chiedi ma stai conto che qui stavota? ah lei ehi proprio una volta a farla vieni porta su tutti i kawasaki dai porta su i kawasaki ma via così guarda come biciclette un po' ciuttolo perchè basta qui perchè non le buoni a su dai ci brauti ciao guarda che siamo andati a fare roba sempre c'è ancora eh guarda che ho puntato oggi ho visto che c'era lì ho visto che c'era lì io sono lo spari che era tra l'altro che ho fatto il filmato che ho fatto ora minotto sono fino a fondo eh fino a che c'era lì mi ha visto una minotto da di chi eh se vede che te lo guarda su se vede il filmato io lo caldo con il pulso ma cosa fai lo piede io su penso che sia se troviamo ahahahahah ma vai giù che altro adesso no che hai detto dio ca se mi vede sarai stuì aspetta che non vengo su per fare un'esercina da panico vai pierre fermo fermo ma stai ma stai oggi se mi vede vedo citato qui è sull'esercina date me calmarla però perchè scrive la bomba se no vedo mica che i man si fuja se mi vedi cosa hai fatto? la forza che ho messo dentro hai capito Ceng? così devi fare ahahahah vieni 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 diverso bravo bravo no, la segnala chiamò, io vado guarda che vado via porco dio hai fatto il faro, bastardo tanto va la catta al lardo che ci face lo zampino buuuuuuuu hai fatto il faro che non è la vita a piapa hai fatto il faro che non è la vita a piapa hai fatto hai fatto